Sono Stefania Benetti e sono ricercatrice in geografia economica e politica. Negli ultimi anni mi sono occupata della rappresentazione delle tematiche ambientali all'interno di vari media della cultura popolare come la musica e la street art. Nel caso della street art mi sono occupata nello specifico della rappresentazione di determinate simbologie in quello che viene definito neomuralismo contemporaneo, ossia la rappresentazione di grandi opere d'arte urbana su grandi facciate di edifici o di muri stradali. Un esempio è il progetto Toward 2030 realizzato in collaborazione dal Comune di Torino e un brand di una marca di caffè, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità torinese e in generale anche la comunità nel mondo sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto prevedeva la realizzazione di grandi facciate di edifici locati in diverse aree della città di Torino, con la realizzazione di opere di street art. Sono stati coinvolti diversi artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche in collaborazione con quelli che sono i collettivi storici della street art torinese. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS